Ok, questo è il primo giorno di questo mio progetto su YouTube per archiviare quelle che sono le mie esperienze, i miei ricordi, eccetera, eccetera. C'era il progetto di andare a San Giacomo di Entracque per alcune riprese, ma la protezione civile è qui. Stanno facendo delle esercitazioni, questo sbarella tutto il mio programma e provo a darmi ad intrufolare, vediamo cosa riesco a fare. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.